Si è svolta ieri mattina nella sala quarto stato di Palazzo IA con una conferenza di servizio relativa ai lavori di completamento per la messa in sicurezza del porto di Scoglitti. Oltre al sindaco Giuseppe Nicosia, al responsabile unico del procedimento Angelo Piccione, al dirigente dell'ufficio urbanistica Giuseppe Chiofalo e ai progettisti del provvedimento interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria Giuseppe Scorsone, Alfio Conti, Edoardo Cardella e Antonio Casella erano presenti all'incontro Aldo Vernegno dell'assessorato regionale territorio ambiente, Ignazio Pagano del Genio Civile di Ragusa, Giorgio Battaglia della Sovrintendenza di Ragusa, Carmelo Fortuna e Giovanni Agosta della Capitaneria di Porto, Giovanni Di Stefano del Comando Provinciale Vigili del Fuoco. In prima convocazione, ha dichiarato il sindaco, la conferenza di servizio sul progetto, che utilizza le somme del ribasso d'asta, dell'escavazione e del banchinamento del porto di Scoglitti, ha ricevuto i pareri favorevoli di tutti i presenti, poiché però in prima convocazione è necessaria la totalità dei pareri, a seguito dell'assenza di alcuni enti è stato necessario un aggiornamento a breve termine della conferenza stessa. In seconda convocata per martedì 26 basterà la maggioranza semplice. Si tratta di un risultato fondamentale, commenta il sindaco, al quale avrei voluto pervenire molto prima, ma stiamo correndo e stiamo lavorando affinché si arrivi al più presto possibile all'escavazione del porto e al banchinamento di una sua parte. E' un progetto fondamentale, ha detto, cui ho aspirato da sempre non soltanto per l'utilizzo dei 3 milioni di euro del ribasso d'asta, ma anche per i risultati eccellenti per la pesca e per il turismo, che tutto ciò favorirà. L'avere raccolto i pareri favorevoli di tutti gli enti partecipanti è una notizia positiva, alla quale si aggiunge quella che entro pochissimi giorni, salvo infatti prevedibili al momento, sicuramente non preventivabili né auspicabili, avremmo approvato il progetto del porto di Scoglitti. Grazie. 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 Grazie.